Amici, buonasera e benvenuti nella mia cucina. Sono Riccardo Di Giacinto, del ristorante Alloro di Roma. Anch'io, come i miei amici di GR Italia, ho preparato un piatto per AERC. Un piatto gustoso, un piatto saporito, un piatto colorato, un piatto prudista e quindi un piatto per rimanere in forma. Abbiamo fatto una centrifuga di pomodori, ciliegie e fragole, una tartarra di rombo condito con dell'olio e delle foglie. Quindi, oltre ai pomodori, la ciliegie e le fragole, abbiamo aggiunto un po' di cipolla, un'idea di basilico e di cetriolo, frullato con dell'olio extravergine e quindi andiamo a preparare il piatto. Sulla base del piatto abbiamo la centrifuga di frutta e qui abbiamo la tartarra di rombo. Andiamo a condire con un filo d'olio extravergine, un po' di sale e l'andiamo a servire così. Un piatto che possiamo riproporre tutti quanti a casa, delle foglie, un filo d'olio ancora, e una grattugiata di limone. Anch'io, come tutti i GR Italia, sono al fianco della Fondazione AERC, oggi più che mai, dobbiamo avere fiducia nella ricerca. Sosteniamo insieme i 5.300 ricercatori della Fondazione e costruiamo un futuro sempre più libero dal cancro. Doniamo ora su AERC.it. A presto, un abbraccio.